Nuova opportunità per i giovani under 25 residenti in città. Grazie a un accordo siglato tra Comune di Porderone e Cinema Zero, dal 1 febbraio verrà consegnata a tutti i ragazzi che la richiederanno la Cinema Zero Young Card. Con questa tessera potranno assistere ad un prezzo agevolato alle proiezioni organizzate da Cinema Zero. Oggi abbiamo il piacere di lanciare la Cinema Zero Young Card, un progetto che Cinema Zero ha pensato in collaborazione con l'amministrazione comunale, che vuole essere un gesto concreto per favorire la partecipazione dei ragazzi più giovani alle tante iniziative culturali organizzate da Cinema Zero. La proposta è molto semplice, si sostanzia nella possibilità di sottoscrivere gratuitamente per tutti gli under 25 che risiedono nel Comune di Porderone la nostra tessera di fidelizzazione, la Cinema Zero Card, che gli permetterà veramente di entrare a far parte del progetto culturale di Cinema Zero. Con questa tessera infatti, grazie ad una convenzione sottoscritta appunto con l'amministrazione comunale, i ragazzi potranno partecipare alle nostre iniziative ad un prezzo davvero speciale e soprattutto a sentirsi parte di un percorso culturale, che si sostanzia sì nella visione delle proiezioni cinematografiche, ma anche in una serie di altre attività, come per esempio lo Young Club, il gruppo che ogni due settimane si ritrova qui all'interno della Mediateca di Cinema Zero, che partecipa attivamente all'attività, ma anche di partecipare per esempio alle proiezioni dei classici restaurati, che verranno offerte gratuitamente proprio a tutti i possessori della Cinema Zero Young Card. Un accordo con Cinema Zero che però non ha solo un valore di agevolazione economica, ma un valore simbolico e sociale molto più ampio. Perché? Perché oggi i giovani rischiano di essere con le relazioni sociali impoverite. Dopo il trauma dei lockdown, delle restrizioni e il fatto che sono costantemente collegati ai loro telefonini, rischiano appunto un po' di impoverire le loro relazioni. Ebbene, l'emozione, la magia, le relazioni sociali di una sala cinematografica non potranno mai essere sostituite da un telefonino o da Netflix. E in questo senso appunto l'iniziativa ha anche un valore simbolico e sociale molto forte. Peraltro è una delle operazioni che il Comune, assieme ad altre associazioni culturali, in questo caso Cinema Zero, mette in campo per raggiungere un obiettivo, quello di coinvolgere i ragazzi della nostra città in modo più forte nella vita della città stessa, soprattutto nella vita culturale e artistica.